Ciao amici, allora grazie, io oggi vorrei parlare un po' di VIP e vacanze, perché abbiamo presentato già i palinsesti Rai e Mediaset che sono usciti, le trasmissioni rincominceranno a settembre, quindi i VIP sono in vacanza, un po' di qua e un po' di là, è facile trovarli ormai a Formentera, in Costa Smeralda, tanto anche nel Salento ho visto, sono andato dappertutto su e giù nella nostra bella Italia, quindi io ho appena visto, è terminato il mondiale, ormai è chiuso, non ne parliamo più, è finito, abbiamo visto ad esempio questi calciatori belli a riposo, sai dopo le fatiche del mondiale, ad esempio sai Boateng, Boateng è stato visto ultimamente in Sardegna, che è praticamente la regione d'origine della sua compagna Melissa Satter, dalla quale ha avuto il bambino il 15 aprile scorso e la voce è quella, ormai si sposano, stanno cercando la location ideale per sposarsi proprio in Sardegna, tra l'altro parlando appunto di Melissa Satter, il suo ex Bobo Vieri è stato paparazzato con Barbara D'Urso, ma noi sappiamo che sono solo amici, no sono amici, sono amici e basta, però i giornalisti mettono sempre lo zampino, Vieri, la Canalis, è tutta una catena, oggi siamo a catena, mi fai venire in mente la Canalis, che si è ripresa molto bene, questo brutto momento, è stata vista a Berlino alla settimana della moda, con un abito stupendo corallo, colore, sai quel colore caldo, come vanno quest'estate, infatti quest'estate colorata 2014, oltre a aver rispolverato questi colori molto accesi e molto caldi, ha rispolverato uno stile un po' diciamo etnico chic, frange, Tex-Mex, esatto, e quindi facciamo le cowgirl, no? Sì, quest'anno tutte cowgirl, sì sì, quest'anno tra l'altro ecco, non solo, si sono viste le frange dappertutto, sui mini shorts, sulle t-shirt, dappertutto a prezzi diciamo così abbordabili, ma anche una maison così importante, così chic come Chanel, ha disegnato un'intera collezione, cioè proprio la collezione Paris Dallas, rivisitando la famosa 255, ecco questa è questa borsa, diciamo, masche, tutti dicono voglio la borsa di Chanel, con le frange bellissima, cioè in edizione limitata, e quindi Chanel quest'anno tra le unghie, tra le borse si è dato da fare, diciamo, c'è l'altra volta l'abbiamo parlato, e poi niente, le altre news del momento, stiamo sempre aspettando un po' le novità, no? Perché ci sono delle coppie che scoppiano, e delle coppie che rimangono in piedi, fino all'altro ieri chiunque avrebbe detto, mi voglio fare invitare al matrimonio di Albano e della Leciso, a quanto pare non vivono più insieme, e lì un attimo che ti giri, ti giri un attimo, tac, in un secondo, una frazione di un secondo succede di tutto, ecco, però noi siamo sempre qua, è vero, a raccontare i nostri gossip è tutto, quindi seguiteci, ci vediamo nelle prossime puntate, e grazie per stare sempre con noi, ciao! Ciao, ciao!